Controlli sempre accurati, quelli condotti dalla Guardia di Finanza di Catania in relazione nello specifico al contrasto dell'abusivismo commerciale, alla contraffazione di marchi, alle violazioni alla normativa sulla sicurezza dei prodotti. A tal proposito, ennesimo sequestro. A Mister Bianco le fiamme gialle etnee nel corso di un'ispezione all'interno di un esercizio commerciale gestito da cittadini di nazionalità cinese hanno rinvenuto oltre 130.000 articoli riproducenti prodotti di noti marchi commerciali presumibilmente contraffatti. Tra gli articoli sequestrati portachiavi delle più note case automobilistiche, orologi di marca e poi ancora giocattoli e articoli per la scuola, in quest'ultimo caso particolare è stata la preoccupazione a causa della potenziale pericolosità dovuta alla sconosciuta composizione dei materiali e soprattutto alla scarsa qualità costruttiva. Così come sottolineato dalle fiamme gialle, l'azione di contrasto condotta è anche finalizzata alla salvaguardia dell'economia legale, in quanto l'immissione in commercio di un così considerevole numero di prodotti illeciti a prezzi altamente concorrenziali avrebbe influito negativamente nel mercato, creando ulteriori difficoltà in un periodo storico non certo facile per gli imprenditori onesti. Al momento del controllo non sono stati esibiti documenti commerciali o fatture che attestassero la provenienza della merce e il regolare acquisto da operatori economici cinesi autorizzati all'esportazione in Italia. L'intervento si è concluso con il sequestro di oltre 130.000 articoli contraffatti e con il deferimento alla locale autorità giudiziaria dei responsabili per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali, nazionali o d'esseri atti ad indurre in inganno il compratore e ricettazione.